Vibonati, Salerno, sabato 30 novembre 2024 ore 17, presso l'hotel Orion a Villa Mare, l'associazione Crescere in Rosa APS organizza, quante storie. Evento scientifico divulgativo sul percorso psicofisico di donne con precedenti diagnosi oncologiche. Interverranno il dottor Antonio Santoriello, la dottoressa Erminia Tancredi, la dottoressa Rosa Sala, la dottoressa Anna Rita Roscigno, il dottor Antonio De Filippo. Modera Stefania Marino, giornalista. Presenzieranno all'evento alcune rappresentanti dell'associazione Crescere in Rosa APS, le cui storie sono raccontate nel libro. Quante storie.